Siamo contenti perché comunque venire a giocare in Europa non è mai facile a prescindere dall'avversario, loro sono un'ottima squadra, però noi siamo in un ottimo momento, chi gioca in più, chi gioca in meno, comunque c'è grande voglia di dimostrare, io sono molto contento perché comunque era l'esordio europeo e quindi ringrazio la Lazio che mi ha dato questa opportunità e quindi ringrazio il mister che mi ha dato questa occasione, ho cercato di fare quello che mi ha chiesto, non giocavo da tanto tempo, quindi ho cercato di fare cose semplici, quello che mi ha chiesto il mister e la cosa importante è appunto aver vinto con una bella prestazione di squadra. Sì, purtroppo abbiamo visto che quando cala un attimo la concentrazione abbiamo subito praticamente due tiri in porta e abbiamo preso due gol, quello penso sia stata la cosa negativa, per il resto penso che abbiamo provato a giocare con personalità sia nel primo tempo che nel secondo cambiando modulo e quindi la cosa positiva sia appunto che la squadra cerca sempre di giocare per vincere e questo ci ha permesso di arrivare alla vittoria. Sì, il Genoa lo sappiamo, in casa è una squadra molto difficile da affrontare e noi comunque come sempre, come ho detto prima, giocheremo per vincere, abbiamo poco tempo per recuperare, per preparare la partita, però il mister e lo staff cercheremo di prepararla al meglio possibile per cercare di vincere. Grazie.